La ditta Lamberti Vincenzo è un'azienda a conduzione familiare, da oltre 20 anni rivenditore di materiali e attrezzature per l'edilizia. Ditta Vincenzo Lamberti, via Giovanni Cesaro a Santa Lucia di Cava dei Tirreni. La scuola di teatro di Mercato San Severino, crescere insieme oltre il teatro, sarà in scena domani 25 marzo col Dante di Tutti. Una parodia esilarante dell'Inferno di Dante da non perdere, che terrà incollata alla sedia tutta la platea a partire dalle ore 20 e 30 nello storico teatro comunale di Mercato San Severino. La regia dello spettacolo è a cura dell'attrice Clotilde Grisolia. Alle 20 e 30 al teatro comunale di Mercato San Severino andrà in scena Dante di Tutti, a cura della scuola di teatro Crescere insieme oltre il teatro. È un modo per omaggiare Dante nell'anno appunto del 25 marzo, che è diventata ormai la giornata mondiale dedicata a Dante, ma anche è un modo per lanciare un messaggio di speranza, di pace in questo periodo buio che stiamo vivendo. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, così si conclude lo spettacolo. E saremo in scena tutti i bambini, gli adolescenti ed adulti, compresa me, tutta la scuola di teatro in scena, per accendere tante piccole stelle di speranza, per divertirsi un po' e per sorridere, perché è una parodia dell'Inferno di Dante, ma anche per riflettere come sempre in questo mondo. Però alla fine, dopo un momento negativo, un momento buio, c'è sempre un momento positivo di sorrisi. Quindi vi aspetto a teatro il 25 marzo. Ingresso 8 euro e prenotazione obbligatoria a causa delle normativi anticontagio.